Palazzini, troppe polemiche per la tassa di soggiorno secondo lei? Allora abbiamo riscontrato dell'irritazione da parte delle associazioni di categoria ed è per questo che noi ci poniamo l'obiettivo di riavviare un dialogo tra associazioni di categoria che seguono le strutture ricettive, quindi le strutture alberghiere, e l'amministrazione perché dal dialogo e dalla collaborazione di amministrazione e di associazioni di categoria è scaturito il grande successo in ambito turistico che sta vivendo Arezzo con le due amministrazioni Ghinelli. Quindi questo è il nostro obiettivo. Chiederete una commissione apposita? Il mezzo attraverso cui arrivare ad una migliore comunicazione tra le due parti potrebbe essere una commissione come potrebbe essere anche un incontro, un tavolo di lavoro fra associazioni e assessore. Il problema di fondo però resta l'abusivismo. L'abusivismo è un problema che già con la nuova legge del dicembre dovremo riuscire in qualche modo a contrastare, però assolutamente resta una piaga che va a danneggiare sia le strutture che operano in maniera corretta, sia l'amministrazione che non percepisce la tassa di soggiorno per gli usufruitori di questo servizio, sia la pubblica sicurezza perché non sappiamo materialmente chi è nella nostra città.